Le proprietà chimiche del carbonio. La configurazione elettronica del carbonio è 1s2, 2s2, 2p2. Nell'orbitale esterno 2p sono presenti due elettroni spaiati. Però nei composti organici il carbonio forma quasi sempre quattro legami covalenti, perché rende disponibili quattro elettroni grazie al processo di ibridizzazione. Infatti si ha la promozione energetica di un elettrone dall'orbitale 2s all'orbitale 2p. Si manifestano i seguenti tipi di ibridizzazione. Ibridizzazione sp, derivante dal mescolamento e ridistribuzione energetica di un orbitale s e di un orbitale p. Gli orbitali ibridi formano tra loro un angolo di 180 gradi. Ibridizzazione sp2, derivante dal mescolamento di un orbitale s e due orbitali p. Gli orbitali ibridi formano tra loro angoli di 120 gradi. Ibridizzazione sp3, derivante dal mescolamento di un orbitale s e tre orbitali p. Gli orbitali ibridi formano tra loro angoli di 109,5 gradi e sono diretti verso i vertici di un tetraedro, al cui centro si trova il nucleo dell'atomo di carbonio. Ibridizzazione o ibridazione. Gli elettroni di uno stesso atomo, se appartenenti ad orbitali di contenuto energetico poco diverso, tendono a perturbarsi reciprocamente, per cui gli orbitali risultanti. Ibridizzati vengono ad assumere caratteristiche geometriche differenti rispetto a quelli originali. Grazie. 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 Grazie.